Buongiorno a tutti e bentornati. Secondo Aristotele, le scienze costituiscono una vera e propria enciclopedia del sapere, cioè un insieme organico e ordinato, in quanto posseggono due fondamenti comuni. Il primo, ovvero il metodo in forza del quale organizzano i pensieri e i discorsi. Si tratta di un metodo che è oggetto di studio della logica. La logica è uno strumento propedeutico a qualsiasi tipo di ricerca razionale e ha un carattere puramente formale, cioè si occupa della forma del ragionamento, ovvero della sua coerenza interna e non della verità del contenuto. Ora, a questo proposito è bene sottolineare il fatto che uno dei pilastri essenziali dell'edificio del sapere di Aristotele è rinvenibile nella convinzione profonda per la quale esiste uno stretto legame, una correlazione, una corrispondenza necessaria fra la struttura del pensiero che si esprime nel linguaggio e la struttura della realtà. Cioè esiste un'affinità elettiva, una compatibilità di fondo fra il modo in forza del quale si presenta a noi il mondo esterno e il nostro modo di conoscerlo e di parlarne. In altre parole, per Aristotele la realtà, il pensiero e il linguaggio sono parenti stretti, si danno del tu. Secondo fondamento comune, cioè la medesima concezione delle caratteristiche generali dell'essere. La scienza che identifica e descrive tali caratteristiche prende il nome di metafisica. Tuttavia, questo non è un termine utilizzato da Aristotele perché è un termine posteriore, successivo. Aristotele definisce questa scienza in vari modi, ad esempio scienza dell'essere oppure teologia. E tuttavia l'espressione che usa prevalentemente è filosofia prima, in opposizione alla filosofia seconda. La filosofia prima studia la sostanza prima, cioè l'essere intellegibile, quell'essere che si colloca al di là del piano puramente fisico, in opposizione, dicevo, alla filosofia seconda, che invece studia la sostanza seconda, cioè il mondo empirico. Ora, la denominazione che storicamente si è affermata è quella di metafisica, in quanto ritenuta più pregnante, più efficace. Forse è stata coniata da un allievo di Aristotele, oppure da un collaboratore di Aristotele, o forse è nata in occasione dell'edizione delle opere di Aristotele realizzata da Andronico di Rodi, uno studioso dello Staggirita del primo secolo avanti Cristo. Alla luce di questa lettura, questo termine metafisica deriverebbe dal fatto che i libri della metafisica sarebbero stati collocati materialmente dopo i libri della fisica, e dunque metafisica, dopo la fisica. Ora, la domanda centrale è questa, a cosa serve la metafisica? Porsi questa domanda vuol dire farsi guardare malissimo da Aristotele, perché secondo Aristotele la metafisica è la scienza più alta, proprio perché non è al servizio di niente e di nessuno, e quindi è la scienza libera per eccellenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che la metafisica non risponde a bisogni di natura materiale, ma risponde a bisogni di natura spirituale, cioè non è diretta a scopi pratici o empilici, ma risponde a quelle esigenze di senso che nascono dopo che sono stati soddisfatti i bisogni puramente fisici. Esigenze di senso, domande di senso, cioè il puro bisogno di conoscere il vero, l'esigenza radicale di dare risposta ai vari perché e soprattutto al perché ultimo. Grazie a tutti, alla prossima!